Qualunque ragazza può sembrare affascinante, le basta restare ferma e sembrare una stupida. Signore e signori, benvenuti al video commento capitolo 1061 di One Piece, con un aforisma di oggi detto da una donna meravigliosa, bella, intelligente. È un aforisma un po' provocatorio perché ovviamente dovremmo fare qualcosa un po' di paradossale in questo video commento. Dovremmo cercare di dire che non siamo assolutamente contro le belle ragazze intelligenti, perché sicuramente ce ne sono tante, sicuramente cambieranno il mondo e lo miglioreranno, però dobbiamo farlo cercando di trovare dei punti, almeno tre e mezzo, che invece diranno che questa ragazza così bella non può essere lo scienziato più intelligente del mondo di One Piece. Il che è un po' strano e paradossale è la roba, ma sia ben chiaro, non per motivi legati al fatto di che è troppo bella per essere intelligente, non è questo il discorso, è per il fatto che effettivamente guardando la trama, lo 02 sulla maglia e altre cose, effettivamente ci sono dei forti sospetti che non possa essere lei lo scienziato geniale, che poi lo sarà, ci sono tante teorie, tante cose, vedendole effettivamente, come dire, faremo una teoria che da un lato dice non può essere lei, dall'altro ci dirà anche, e quindi potrebbe, potrebbe, vediamo. Ovviamente il capitolo non è solo questo, il capitolo è tanta altra roba. Se vi notate ho messo il microfono in un'altra posizione perché quando lo mettevo diritto, il microfono, faceva un rumore, un ronzio forte, ho dovuto abbassare il volume per evitare il ronzio, però non si sentiva bene, vediamo se oggi l'audio va un po' meglio e se non ci sono ronzii. Comunque il capitolo parte con una cover che tra l'altro si colleghi incredibilmente al capitolo perché abbiamo a che fare con Cesar e Giaggi, due persone che hanno avuto a che fare con Vegapunk, il primo ci ha collaborato, il secondo lo odia Cesar, però interessante come Oda vuole andare a prendere ultimamente tutti questi personaggi e mettere chissà dove poi, qualcosa che ha a che fare con la scienza, che è sempre più importante come oggi giorno. Parliamo ovviamente di Vegapunk e ovviamente, ma un discorso, è perché c'è la foto del Reverie qui, perché c'è la foto del Reverie? Perché volevo fare comunque un intero discorso che ha a che fare con la meravigliosità della trama di questo manga e poi ovviamente, bisogna dirlo, il capitolo 1061 non è solo le ultime pagine e non è soltanto il discorso di copy che pure interessanti ovviamente tratteremo, ma questo capitolo ha avuto tutta la parte dell'approccio all'isola di Egghead che ci ha veramente riportato indietro ai bei tempi, vedete qui c'è la Mary, ah grande la Mary, il suo famoso funerale fantastico e poi ovviamente ragazzi è un capitolo che ufficialmente fa iniziare la nuova saga e sarà una saga dove all'interno della ciurma c'è lei, Jolie Boni, e ho sbagliato foto un'altra volta, mannaggia ogni volta che prendo Jolie Boni sbaglio sempre foto, vabbè niente adesso non dobbiamo fare altro che lanciare la sigla e addentrarci nel capitolo dove parleremo questa volta da subito di Vegapunk, l'argomento più scottante, sigla. W la Vegapunk di Oppi, allora eccoci qui, c'è un bellissimo sfondo con tante belle donne e ieri la vi avevo promesso questo indovinello e partiamo subito da questo indovinello, pronti? Il rasoio di Occom ovviamente, lei è Vegapunk, ovvio, e invece io vi dico che ci sono dei forti dubbi che potrebbero non essere lei e credo che statisticamente il 99% della community pensa che non possa essere lei ah certo perché una donna troppo bella non può essere intelligente fermi l'indovinello è questo guardate questa bellissima donna ovviamente si vede che non è una di quelle bellezze del 2022 però si vede anche chiaramente che è una donna stupenda per quelle età lì, in bianco e nero, foto in bianco e nero nata nel 1914, morta nel 2000, quindi siamo nel pieno del XX secolo secondo voi questa bellissima donna cosa può aver fatto? beh ha fatto anche l'attrice è stata anche un'attrice perché era talmente bella che poteva permettersi anche di fare l'attrice beh vi dico di più, questa è stata anche un'inventrice questa donna ha inventato una roba importante cosa? adesso ovviamente qualcuno potrebbe dire beh una bella ragazza così potrebbe aver inventato la faccia di Vegapunk potrebbe aver inventato non so il rossetto potrebbe aver inventato il ferro da stiro perché le donne lavano stirono e cucinano potrebbe aver inventato le calze a rete tipo non so, robe alla Coco Chanel questa donna ha inventato una cosa che state usando anche voi in questo momento perché oltre a essere una bellissima attrice un grandissimo bel pezzo di figura in bianco e nero ha inventato non queste robe qui anche il mocio, ci ho messo anche il mocio tra i vari pensieri ha inventato il wifi e bene dire signori cari il wifi che state usando in questo momento l'ha inventato quella grandissimo bel pezzo di e chi è questa bella ragazza? questa bella ragazza si chiama Hedy Lamarr la potete trovare su Google ovunque ha fatto l'attrice ha fatto l'invento ha inventato cioè il bello che è anche capito in un mondo, in un campo come quello dell'elettronica del digitale dell'informatica dove difficilmente uno pensa una donna ma soprattutto una bella donna come questa possa contribuire inventando il wifi eppure è così per cui non c'è nulla di male se quella bella ragazza fosse Vegapunk nel senso che sarebbe anche non soltanto come dire un qualcosa di politically correct ma qualcosa di credibile perché succede che una bella donna può inventare anche qualcosa di scienziato del genere ma oltre a questo la cosa interessante è l'aforismo perché questa stessa donna poi dovendo vivere in un mondo dove ovviamente c'è un certo tipo di mentalità maschilista una donna troppo bella non può essere anche intelligente alla fine disse questo famoso eforismo qualunque donna può essere affascinante glamorous tutto ciò che deve fare è stare ferma e sembrare una stupida perché ecco Stike perché partiamo da questo perché ovviamente noi su questo canale ripudiamo qualunque forma di violenza ovviamente come dicevamo la volta scorsa e ripudiamo ovviamente anche qualunque forma di sessismo dal punto di vista è troppo bella per essere Vegapunk assolutamente no ciò non toglie che restando a fattori puramente di trama quella ragazza probabilmente non è Vegapunk poteva essere anche un ragazzo giovane ad esempio già non torna col fatto che finora Vegapunk è presentato come una persona anziana e parla come una persona anziana quindi vedete che non è questo tipo di discorso che poi a me piaceva su questo canale parlare anche di Eddie Lamar ne ho approfittato perché secondo me è una cosa di cultura da sapere sai che il wifi l'ha inventato una bel pezzo di donna la faceva anche l'attrice e tutti quanti diranno come sei intelligente seguo Strike Channel quelle robe lì allora parliamo di Vegapunk tre motivi e mezzo assolutamente non maschilisti per cui questa donna questa ragazza potrebbe non essere Vegapunk andiamo con un ordine una piccola introduzione l'hanno notato tutti c'è scritto 02 sulla maglia ed è difficile che il super mega scienziato se ne va in giro con il numero 2 e il prototipo 0 chi è? per me più che lo 1 soprattutto 0 per me Vegapunk è 0 per il prototipo 1 è la sua prima creazione allora motivo 1 facendo questi pensieri ovviamente poi dopo ci lanciamo anche in altri discorsi poi su chi e come soprattutto potrebbe essere Vegapunk a prescindere dal personaggio se è vecchio giovane bello brutto ma poi anche cosa farà nella trama allora motivo 1 solitamente questi grandi personaggi hanno un background interessante qualcosa di grosso poi lo scienziato non è soltanto un topo di laboratorio e quindi potrebbe anche avere un flashback un passato molto interessante quelle robe lì che ne so faccio un esempio una cazzata però giusto per capirci una volta stava lavorando nel laboratorio e l'improvviso sua figlia giovane bella esplose il laboratorio morì in quell'incidente da quel momento il Vegapunk non fu più ecco quelle storie lì quelle robe lì siamo capiti visto morire la moglie figlia robe così eccetera quindi potrebbe avere un passato il classico legame di sofferenza qui cito ovviamente qualcosa che ormai è venuto in mente a tutti anche ieri durante la live il discorso di Pain in Naruto praticamente Nagato il tizio che ha capelli rossi vede morire il suo miglior amico Yahiko è una storia che ormai credo che siano passati sette anni ottobre quanto tempo è passato quindi non è più lo spole e alla fine lui poi decide di utilizzare i suoi poteri appunto per non far morire l'amico che in realtà è morto però lui non lo fa morire ci sono tanti esempi Nagato Yahiko anche Sasori ci davo ieri però ad esempio anche ecco Nini Alexander è un po' diverso io vi suggerisco seguito sto manco è troppo bello Fullmetal Alchemist mi dispiace che ne parlo poco ma è genio è veramente meraviglioso chi avesse dei dubbi si l'ho sentito quasi quasi andate correte è troppo bello Fullmetal Alchemist ecco c'è un momento in cui il protagonista Nando per gli amici Edward incontra quel coso che vedete sulla testa quella specie di cane chimera robe così ecco lo scienziato pazzo aveva preso Nina Alexander ha creato strano brutti utilizzando i corpi ecco gli scienziati sono anche questo quindi o per motivi buoni sai mi manca troppo quella persona voglio farla tornare in vita oppure per motivi di non accettazione di un lutto uno scienziato oppure per motivi semplicemente di pazzia perché un scienziato pazzo è sempre affascinante è una reminescenza del periodo romantico può fare questo motivo 2 andiamo avanti beh vecava anche un personaggio troppo pericoloso no cioè o meglio troppo richiesto in giro quindi è pericoloso muoversi col suo vero corpo uno scienziato solitamente se ne sta lì nel suo studio e manda in giro i suoi prototipi il suo robot Metal Knight in One Punch Man è un esempio simile lui viene incontrato da Genos e vede questo robot e dice ah ma sei tu Metal Knight e il robot parla ma in realtà viene anche poi inquadrato c'è il dottore che stava lì nel suo studio lo stava solo pilotando a distanza ecco quindi il dottore difficilmente si muove pensiamo un attimo troppi pirati darebbero la caccia a Vegapunk perché è anche famoso facciamo un esempio Aguano chi è? cosa chiede in cambio Rochi? ovviamente vuole Vegapunk tutti volere Vegapunk in questo mondo e quindi la marina non lo lascerebbe andare in giro così certo stare d'intorno dell'isola però vedete qualche piratucolo potrebbe aggirarsi e fregare e rubare Vegapunk troppo prezioso per andarsi in giro probabilmente e poi ricordiamo che Vegapunk viene detto da Yonji è stato catturato dalla marina quindi ufficialmente rimane lì non lascerò in giro senza neanche una scorta ecco altra cosa aveva una scorta Sentomaro la sua ex guardia del corpo dov'è adesso? cioè che cazzo di guardia del corpo è se poi questo sarebbe in giro così scusate quindi come minimo in questo momento intorno alla ragazza dovevano starci almeno 100 soldati per difendere Vegapunk per cui altro motivo Sentomaro ex guardia del corpo ecco nell'840 viene detto una volta che il governo mondiale ne venne a conoscenza decise che era un potere troppo grande per l'uomo e fece arrestare immediatamente Vegapunk quindi ufficialmente parliamo di una persona arrestata dal governo motivo 3 anche questo mi piace tantissimo il discorso che ok ragazzi è vero che Oda le pen ombre le mette un po' alla cacchio di cane non a caso in italiano si dice proprio pen ombra perché è un'ombra alla cacchio di cane però altrettanto vero che qui non è solo una pen ombra sono anche i dialoghi nel 658 viene chiaramente espresso sia in inglese che in italiano quel vecchio bacucco di Vegapunk ha sbagliato quattro anni fa thanks to that old jitter Vegapunks e poi anche la pen ombra che vedevamo nel flash nel flash of becco raccontato da Cesar Clown quindi probabilmente dobbiamo ancora tenerci in mente un po' Vegapunk fatto così che poi non mi dispiacerebbe anche questo testone gigantesco che ricorda un po' Tsukimi questi personaggi che hanno a che fare poi con la luna perché il collegamento ormai è sicuro Karakuri Karakuri sulla terra Karakuri sulla luna quindi qualche legame poi lì ci sarà senz'altro e restando nel capitolo 840 leggiamo appunto altre robe anche questo interessante sull'età di Vegapunk viene detto dagli ongi Germa è sempre stato famoso negli anni come il regno della scienza ricordiamoci che Germa 66 è una storia lunghissima alle spalle fumetti antiche cose supereroi Sora eccetera perfino nostro padre era acclamato come un brillante scienziato tempo fa leggete qui prima che nascessimo prima che nascessimo quindi Vegapunk deve essere più grande di ongi e sanji e poi lavorava insieme a Vegapunk sulla ricerca e lo sviluppo di armi prima che nascessimo quindi come età non ci troviamo affatto poi prima che nascessimo il rivoluzionario risultato che lui e Vegapunk ottennero fu la scoperta del fattore di lignaggio ecco qui poi in questo balloon sancisce definitivamente perché uno può anche dire vabbè ma magari prima che nascessimo già ci lavorava per i fatti sui e poi dopo qualche annetto fa ha incontrato Vegapunk no proprio prima che nascessimo il rivoluzionario Vegapunk e lui ottennero questo risultato quindi dobbiamo andare veramente indietro negli anni per trovare Vegapunk in queste storie poi c'è mezzo motivo perché io ho detto tre motivi e mezzo mezzo motivo perché non ha a che fare con cose del manga non andiamo a prendere vecchie cose vecchi balloon dai vecchi capitoli ma vi dico ma non è strano un personaggio che viene presentato così de botto conoscendo One Piece un personaggio che tra l'altro finora in One Piece è stato non un personaggio ma un nome un nome vagante Lo a Punk Hazard parla di Vegapunk Vegapunk faceva gli sperimenti il frutto del diavolo artificiale di Momonosor che l'ha fatto Vegapunk Orocio vuole Vegapunk Kobe dopo Water 7 parla di Vegapunk Ray League che nel 1059 diceva eh da quando Vegapunk ha messo le cose lì sotto le navi neanche qui nelle fasce di Bonaccio tutti parlano di Vegapunk un personaggio così grande all'improvviso viene presentato così de botto certo lo so qualcuno potrebbe dire potrebbe dire proprio questo l'effetto sorpresa però oppure io citavo qui anche Kaido è stato presentato all'improvviso Oda ci fa vedere la penombra di Big Mom tutti ci rispettiamo Big Mom da Fishman Island Luffy parla con Big Mom Pum 795 appare Kaido strana come cosa però attenzione l'apparizione di Kaido non è avvenuta in due pagine come in questo capitolo è avvenuta l'ho ricontato il 795 in 7 pagine cioè 7 pagine prima della fine 7 pagine prima c'è questa cosa base pirata di Kid si vede l'esplosione poi si fa tutto in giro si vede Urouge si torna indietro poi la presentazione Marine dopo 7 pagine appare Kaido quindi Oda se l'è giocato certo in un solo capitolo di botto ma ci ha messo un bel po' per presentarlo infatti anche la puntata dell'anime ci mette praticamente mezz'ora a presentare Kaido qui no qui è troppo improvviso certo qualcuno dice proprio questo è il fattore sorpresa però conoscendo il furbacchione di Oda secondo me Oda si è voluto giocare questo effetto ma poi dopo torna su 6 passi e ci presenta il vero Vegapunk comunque vada ragazzi che volete che vi dica sia che sia questa ragazza sia che sia semplicemente un assistente sia che sia un prototipo secondo me comunque aggiungere questo personaggio chiamiamolo per il momento Vegapunk ragazza prototipo 02 comunque aggiungere un altro po' di devo aver tagliato qui l'immagine non so dopo la F cosa poteva starci però non è male anche questo personaggio qui se dovesse continuare a proseguire all'interno della trama oh io la butto qui questa si arrolla in giurma oh in giurma abbiamo avuto qualunque tipo di roba voleva arruolarsi ma perché non possiamo portarsi in giurma proprio un robot un cyborg qual è il problema non capisco immaginate in giurma un cyborg che bello che sarebbe certo stonerebbe con Franchi però a noi va bene anche un altro po' di allora parliamo adesso di altre cose visto che qui l'argomento è ancora lungo entriamo nel discorso politico e ci riaffacciamo a Vegapunk perché mi piace tantissimo ciò che è accaduto ieri avevo fatto un breve excursus ma adesso ho preparato anche le immagini allora ci sono come vi dicevo due ma io la One Piece lo sto leggendo così poi voi siete liberissimi di buttare nel cesso quello che vi suggerisco oppure dire però effettivamente non è male da rifare qualcosa allora io vedo due grandi macro trame in questo momento in One Piece la prima è stata già finita è quella lì di Wano Kuni Gekokujo per arrivarci ci abbiamo messo un pezzo Fishman Island Ruffy che litiga con Big Mom poi andiamo a Dressrosa Ruffy sfascia tutto l'impero di Kaido con Doflamingo gli smile poi Hulk e Kailand litigata bruttissima con Big Mom poi Wano cioè vedete va bene frattempo Wano tutto questo ha portato alla fine a dover scontrare Ruffy con due imperatori nel frattempo sono subentrato una marea di super nove che hanno fatto quello che fanno le super nove un gruppo si alleaga con i vecchi un gruppo si alleaga con i giovani i giovani battono i vecchi punto fine di questa macro trama hanno vinto le super nove ovviamente un manga shonen e ci mancherebbe altro Reverie politica questa è l'altra grande macro trama qui dentro è ancora in corso anzi è appena iniziata è stata comunque accennata durante Hulk e Karen con Reverie adesso Im sta diventando un personaggio sempre più attivo io pensavo che Im sarebbe comparsa proprio alla fine invece già sta cominciando a fare le sue mosse con la sua super arma probabilmente Uranus e poi ci sono in corso otto nazioni in rivoluzione beh sette una mi sa che non c'è più nel frattempo ci sono anche i rivoluzionari che faranno la loro mossa Sabo che è un po' alla ace sta entrando attivamente nella trama e tutta sta roba qui e Rufy dice vabbè ma Rufy al momento è ancora lontano da sue storie Sabo e no perché è appena entrato in contatto con Jolie Bonny la quale secondo voi cosa vuole fare vuole parlare con Vegapunk per far ritornare la memoria a Kuma obiettivo di questa saga quale potrebbe essere alla fine prendere un chip contenente la memoria l'anima di Kuma per poterla rimettere nel cervello e Kuma che torna di nuovo con tutti i suoi ricordi secondo me è questa la trama di questa saga di Egghead che sicuramente sarà più breve di Wano dopo tutto quello che è durata Wano quindi siamo in questo momento in questa fase di One Piece ok guardate quanto è bello tutto questo tutto inizia secondo me da questo dialogo perché in questo dialogo abbiamo sia l'aspetto militare sia l'aspetto politico tutto inizia da qui un doppio scenario da un lato succede che vengono annunciate le nuove armi di Vegapunk che quindi entrano attivamente nella trama beh se entra attivamente nella trama un'arma di Vegapunk appena creata non qualcosa che è stato creato 30 anni prima dell'inizio della narrazione qualcosa appena creato adesso che significa che significa che sta entrando in scena Vegapunk e appena creato quest'arma significa che ormai ci siamo al suo arrivo capite che e poi dall'altra parte abbiamo il discorso politico perché ad abolire i flottari sono stati re cobra e re ricu principalmente quindi vedete da un lato politico e da un lato militare da questo dialogo parte tutto ora come leggo il volume 105 perché ci stiamo andentrando verso la seconda metà di questo volume leggo che il capitolo 1058 che ha fatto ridere bug e tutto carino però ci sono rimasto male perché non sono apparse le armi quindi si è allontanato da me lungi da me l'idea di Vegapunk perché senza armi niente Vegapunk poi non c'è stata logica perché come vi dicevo strano che come diceva Kobe la marina mandi a morire la gente così e la trama io ho visto proprio crollare tutta questa organizzazione in testa che aveva della trama motivo per cui a me il 1058 mi aveva fatto un po' mh track ma non ridi no non rire che volete da me 1059 boom appaiono le armi di Vegapunk quindi ho iniziato a dire ci siamo tra un po' arriva il personaggio perché basta tenerlo lì come nome tra un po' arriva i Marines non sono stati realmente sacrificati grazie ai copi di ricordare sempre questa cosa quante si bella mamma mia la trama ritorna ad avere la sua organizzazione a me il 1059 ce l'ho nel cuore sto capitolo 1060 bellissimo intrescena him divino sto capitolo quindi ci aspettiamo più che il lato militare il lato politico quindi rivoluzioni otto nazioni rivolte adesso sono tre che a quanto pare possiede un'arma ancestrale che è tutto dire la trama ritorna a essere lineare e Vegapunk è prossima ad entrare in scena voi direte addirittura hai fatto tutto sti pippe mentale ragazzi io nello scorso video commento capitolo 1060 nell'angolo delle quote l'avevo messa a 13 però ho detto secondo me prossimo capitolo 1061 abbiamo già qualche info su Vegapunk porca di quella ci abbiamo preso ma il bello di questo è proprio quando tu hai in testo una trama e tutto risulta lineare io vi suggerisco di non dico di fare copia e incolla però che ognuno poi è libero però secondo me si può leggere così One Piece ha un senso leggere in questa maniera con queste macro trame con queste idee e queste organizzazioni perché l'opzione alternativa sapete qual è il calderone guerra finale di Kishimoto invece organizzando sti bei gruppi la cross guild che comunque mi piace per me il 1058 aveva lasciato delle cose ma la cross guild mi piace mettere insieme Buggy che può fare solo il capitano con Crocodile e Mioc dall'altra parte io mi aspetto Boa Hancock e Gecko Moria perché ce l'hanno entrambi i conti ma mi sono fissato con sta roba poi Weeble con tutti gli ex figli di Barba Bianca cioè mi piace vedere queste cose e adesso vedremo come proseguiranno come proseguirà un piste ma secondo me Oda sta veramente mio commento sta gestendo alla grande il manga nonostante tutti i personaggi che so proprio tanti tanti gli ragazzi li sta gestendo in una maniera da premio Nobel della letteratura comunque alcune domande attive su Vegapunk secondo voi Vegapunk qui non la risposta non la so ognuno di voi è libero di se volete rispondere ai commenti siete liberi secondo voi Vegapunk sarà un personaggio politicamente attivo mi spiego è uno scienziato ma lui è uno che dice ho creato una bomba in grado di far saltare una razione in aria beh ci facciano quel che voglio mi frega un cazzo cioè questo è un personaggio politicamente passivo politicamente attivo invece è uno che dice no io credo nei marine credo nell'ordine mondiale voglio che il governo vinca perché quindi è importante creare quest'arma ah voi pirati andreste tutti eliminati cioè ha una sua visione politicamente politicamente significa sei di destra o di sinistra ad esempio quindi sei più verso il governo sei più verso i pirati verso gli anarchici questo invece oppure uno dice no io creo le robe poi faccelo quel che vogliono questo è come lo vedete poi altra domanda secondo voi non ha un suo background con un super flashback qui ne abbiamo già parlato per me e sì poi se qualcuno dice no Oda potrebbe anche saltare tutto questo in fondo anche da Kato ci aspettavamo chissà quale grande flashback ma è che abbiamo visto tanta roba poi che relazioni ha con i pirati e con i rivoluzionari ecco all'interno di questa domanda si nasconde forse un po' la risposta alla prima forse Vegapunk è abbastanza neutrale come personaggio collabora un po' con tutti a lui interessa la scienza certo è che certo è che tutto lo scopriremo già nei prossimi capitoli quando Giulie Bonni farà la sua proposta cioè caro mio io voglio di nuovo far recuperare tutta la memoria tutta l'anima a Kuma mi dà il chip come posso fare? adesso vedremo la risposta potrebbe anche che potrebbe anche essere Vegamo che dirà no impossibile non si può fare più ho resettato tutto oppure dirà si ok guarda c'è il chip sta qui valla a prendere sta nel mio laboratorio per dire già da qui capiremo se uno che collabora non collabora cosa farà ad esempio adesso c'ha in mano la nave la Sanni potrebbe guardarla e dire bella sta nave chi l'ha fatta Franchi l'avrei fatta io è poco bella complimentore ma mi sai migliorerei un po' questo punto quindi un personaggio neutrale o addirittura a favore dei pirati se invece dice basta nave buttiamo adesso vi faccio arrestare subito beh abbiamo capito che lì politicamente da che parte sta ce l'ha contro i pirati e poi appunto si aiuterà mai Gioliboni perché bisogna capire ma secondo me la domanda più bella è questa che rapporti può avere Vegapunk con l'antico regno perché ragazzi in One Piece abbiamo avuto questo anticoregno con tecnologie pazzesche creazione di armi assurde biotecnologia perché sono pure i frutti del diavolo le armi ancestrali tipo Poseidon tutte create da sti pazzoidi che hanno fatto reincarnare robe no di DNA modificato cioè hanno fatto di tutto st'anticoregno possibile che Vegapunk non abbia un fascino per l'antico regno quasi come dire i rapporti con Nico Robin no nel senso anche lui non vuole scoprire sti pazzoidi che hanno combinato 700-800 anni fa anche se sarebbe vietato scoprire qualcosa su di loro o addirittura qualcuno vorrebbe pensare lui viene dall'antico regno ope ope oppure è riuscito a incarnare la sua Vegapunk potrebbe essere ad esempio un cervello che racchiuda all'interno tutte le menti brillanti dell'antico regno che si sono tutte quante raggruppate in un cervello virtuale che poi si muove di volta in volta all'interno di vari robot quindi Vegapunk è le menti brillanti di 800 potrebbe essere una teoria però per dire che rapporti ci sono tra Vegapunk e l'antico regno potrebbe essere un normalissimo scienziato ma che ha comunque un grande fascino per questi qui ne parlerà eh lo so io lo so che sei vestito a sta popolazione che faceva delle robe mamma mia come sarebbe bello poter sapere quell'oro come facevano e quindi è un personaggio quasi era Nico Robin che ha anche una passione per l'archeologia quindi tante tante domande su Vegapunk e avremo si spera a breve le nostre risposte cambiamo argomento parliamo invece delle cose belle che abbiamo visto in questo capitolo ho fatto una top 10 delle scene più divertenti che mi sono piaciute da morire ma così è per vederle veloce veloce partiamo da subito il coso coniglio che tira fuori Frankie dalla nave questo è proprio One Piece old style stupendo robe così divertenti non le vedevamo forse da quando la Sunny spara fuori il cannone lì dalla golena della non lo so però bellissimo con Frankie e Usopp che vanno in posizione bellissimo vedere la Sunny che tira fuori ogni tanto anche ste immagini poi la Sunny seria quando viene colpita si vede carane dall'immagine la Sunny solitamente sorride in questo caso invece aveva la faccina seria durante l'esplosione poi già nell'immagine dopo torna a essere sorridente però bellissimo vedere quella cosa le facce buffe durante l'esplosione cioè quando devono praticamente trattenere il fiato lì forse anche la citazione alle facce buffe di Wano anche se la saga però Oda si diverte anche a fare questo la cosa che mi ha fatto morire qui qui secondo me nell'anime rende tantissimo tantissimo perché Giulio guardate giù guardate giù e Sanji della nave che ha detto ha detto di guardare giù e nel frattempo lo squalo da sotto cioè capito cioè ste robe da anime me ne rendo conto però è troppo divertente ecco ad esempio non condivido la regia di mettere la doppia pagina capisco che doveva raffigurare questa immagine cioè bellissimo sto squalo da sotto una citazione ai film horror però giustamente ti perdi un po' l'effetto perché tu vedi il volume leggi la doppia pagina lo vedi già lo squalo ti fa meno ridere sarebbe stato più divertente detto di guardare giù giri pagina boom e c'è lo squalo secondo me era più bella però vabbè la regina è andata così bellissimo anche lo squalo e poi bello vedere lo stesso squalo poco dopo cioè prima ti appare una roba così che ti fa cagare sotto e poi dopo fa lo slurp con la lingua questo è proprio One Piece allo stato puro bellissimo e poi qui ragazzi Rufy che chiama Julie Bonny Boggy vabbè traduzioni poi non so come sarà esattamente ma Chopper cioè ma che cazzo di faccia fa Chopper quando si guardate che bruttissimo e quindi tipicamente bello One Piece poi andiamo un po' più nel serio vedere questa prima immagine dell'isola di Egghead secondo me è qualcosa deve essere stupenda isola uovo l'uovo e anche l'immagine soprattutto in oriente della creazione della nascita dell'ideazione dove si genere il nuovo mondo l'uovo è capito è fertilità l'uovo è qualcosa e poi è una struttura stupenda l'uovo molti dicono è una cellula cioè quando vediamo la cellula con il nucleo il citoplasma intorno il uovo in fondo è quello quindi l'uovo è tante cose e vedere questa cosa fatta così poi ci ha messo anche gli anelli intorno quindi raffiguro un pianeta c'è tutto c'è tutto bellissima bellissima la forma di Egghead mi è piaciuta tanto poi le facce buffe di ruffi e cioppere che hanno sete poi mi sembra che abbiano più sete che fame e mi ha ricordato Alabasta ragazzi Alabasta era il 2001 2001 Alabasta siamo nel 2022 non chiedetemi quanti anni sono passati perché sono banati in matematica fate solo figure di me però è passato un bel po' di tempo 21 anni grande strike che è matematica 21 anni sono passati e ancora ho da mettere ste facce buffe così e ci fa ridere così con battute che comunque ok non è roba capito da farti uscire fuori le viscere però questi finiscono su un'isola completamente strana si capisce chiaramente che non è un ambiente ospitale andiamo al ristorante tu ce l'hai i soldi no 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 i soldi va bene c'è ristorante su un'isola solo dei coglioni possono pensarlo Rufi e Chopper ringraziando Dio lo sono e ci fanno ridere e poi chiudiamo però con la cosa che mi è piaciuta di più in questo podio primo posto il fatto che comunque vada chiunque sia si presenta dicendo dicendo nonostante la mia mediocrità oppure in un'altra traduzione diceva sono l'inaffidabile genio cioè praticamente lui si presenta lui lei si presenta ricordando che comunque tutti dicono sono lo scienziato brillante tutti dicono che sono la mente più grande del mondo tutti dicono che io sto 500 anni avanti nel futuro ma sono in fondo un semplice umile inaffidabile mediocre scienziato questa cosa ragazzi dentro a tutto ha la filosofia della scienza all'interno ha la falsificabilità della scienza ha la conoscenza del fatto che per credere nella scienza deve avere una mente aperta e questa cosa mi affascina perché solitamente chi è contro la scienza dice noi abbiamo la mente aperta perché noi crediamo alle teorie alternative quindi siamo aperti di mente invece le teorie alternative sono coerenti ebbene sì ebbene sì se nel 1700 dicevano che per curare la malattia bisognava spremere il limone oggi nel 2022 c'è gente che continua a crederlo quindi è coerente non ci vuole una mente aperta per essere coerente mentre invece la scienza è fortemente incoerente ci vuole una mente molto aperta per dire oh cazzo ci sbagliavamo eh sì perché vedi ci sbagliavamo questa è la scienza la capacità di ammettere di essere fallibili falsificabili è un argomento lungo un po' d'amaro però mi è piaciuto molto 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 il fatto che Vegapunk si sia presentato come un un fallibile mediocre scienziato perché tipicamente scientifico tutto questo bravo Oda ecco concludiamo ho sbagliato sfondo è rimasta qui qui dietro dietro di me è rimasta giù lì e comunque parliamo un pochettino delle ultimissime cose giusto tre immagini abbiamo finito beh il fratello di Rio che giustamente dice una cosa bellissima i seraphim ma tu sei matto andiamo a prenderci i seraphim per salvare Kobe quindi innanzitutto ci fa capire che su quest'isola ci sono i seraphim giustamente ieri in live non se ne è parlato ci ho pensato dopo se lui dice se il meppo dice andiamo nell'isola di Egghead che sta qua vicino per prenderci i seraphim significa che su quest'isola ci sono e mo saranno cazzi amari per i nostri ok chiuso questo è bello vedere che i seraphim vengono utilizzati solo con molta cautela il che giustificherebbe un po' quell'incongruenza del 1058 forse non se li sono portati appresso realmente perché i seraphim li hanno concessi a Kobe e non agli altri ha più un senso ciò non toglie che non concedere agli altri significa mandare a morire una maria di uomini e quindi non ha senso dall'altro punto di vista ma andiamo avanti poi rivedere i bimi giganti rivedere tanta neva all'inizio del capitolo a me ha fatto venire in mente Monet ebbene sì non ne parlo da parecchio ma sappiatelo per chi mi conosce da poco io amo Monet non a caso nella più bella della settimana metto sempre Monet e non è una coincidenza e quindi incrociamo le dita chissà se è tornato Vegapunk non so cosa potrei mai fare in live se torna Monet non lo so perché vabbè però andiamo avanti voi non mi avete visto leggere le saghe di Pancasanto cioè voi non sapevate i miei occhi ogni volta che apparivamo in quella saga perché non erano ancora le live reaction ma non avevamo neanche il canale all'epoca però cioè voi non avete idea che significa comunque andiamo avanti e infine prossimamente su OP potremmo avere una nuova saga che si chiama Salvati il soldato Kobe perché effettivamente attenti a questa a questa microtrama è il Meppo e Ibarri che andranno a salvare Kobe non so come ma magari anche se Prince Gruus dice di non prendersi Serafim e il Meppo e Ibarri andranno a Egghead per rubare un Serafim ad esempio oppure per chiedere lì a Vegapunk in persona se presta un Serafim guarda un po' chi incontrerà Egghead ma guarda oh guarda le coincidenze incontra Rufy wow i casi della vita eh Rufy verrà a sapere che Kobe è stato rapito ma Rufy dice ma è mio figlio di Kobe un ragazzo in gamba figurati è stato rapito da Teach da Teach cioè da Teach ragazzi ci rendiamo conto che potrebbe essere l'inizio dello scontro finale Rufy contro Teach perché qui è lo scontro finale vabbè vedremo vedremo Rufy, Teach e Kobe insieme cioè cosa cazzo vi sto dicendo io da sette anni che ho il canale i tre co-protagonisti Rufy, Teach e Kobe eh ma sono cose diverse vabbè va bene così torniamo alle quote allora quote della prossima settimana avevamo detto inizia una nuova saga è iniziata Gioli vuole proporre qualcosa ci mancherebbe altro lo vedremo nel 1062 sicuramente perché Dragon si muove per Sabo ecco io pensavo che a salvare Sabo sarebbe mosso Kobe invece si è mosso il Beppo per salvare che cazzo ho detto si sarebbe mosso Dragon per salvare Sabo e invece si è mosso il Beppo per salvare Kobe qui abbiamo sbagliato ehm perché quando sbagliamo sbagliamo tra di noi quando a secco a secco solo io no scherzo la famosa falsa letta di Avocado e poi le piccole info su Vegapunk meno male che Oda ci garantisce qualcosa cosa vedremo nel 1062 Rufy Rufy e Bonnus per scrivere faranno un piano devono organizzare qualcosa la trama va avanti avremo nuove info su Vegapunk magari già da subito scopriremo che in realtà Oda si rende conto che tutti hanno capito che quella non è Vegapunk e quindi ci farà vedere un tizio nella penombra che parla con la ricetrasmittente ma soprattutto a me interessa capire lui che carattere ha cioè io voglio vederlo interagire questo Vegapunk cosa pensa cosa vuole cosa pensa del mondo della politica che rapporto dei marini cosa pensa dei pirati cosa pensa dei rivoluzionari cosa ha fatto cioè se ne frega di quello che accade nel mondo pensa solo a costruire armi chi è Vegapunk queste sono le info che mi piacerebbe vedere e secondo me ci saranno potremmo rivedere Kobe perché secondo me ci sta quasi l'idea di vedere un attimino in che condizione è messo lì ad Acinosu se Tic lo sto trattando bene lo ha incatenato lo ha picchiato eccetera e poi soprattutto Sabo perché è un po' difficile la quote altissima 7,20 però non so se Oda poi lo vuole tenere in sospeso così non è escluso perché lo fa Oda la più bella della settimana ok questa sarà la cosa meno scontata del video commento signori beh cioè ma cosa cazzo vi aspettavate cioè ma secondo voi conoscete ma vi rendete conto che se non avessi messo questa la più bella della settimana cioè praticamente veniva Oda in persona a togliermi la webcam e basta tu da oggi non fai più non ti permetto più di parlare di One Piece perché avevamo un contratto io disegnavo cose per pervertiti e tu facevi il pervertito quindi non puoi non mettere il strike in una roba possiamo rivederlo ancora una volta ok molto molto ah Jolly Bonnie questo sarà un grande personaggio vediamo invece voi pervertiti sul forum cosa dite allora vediamo un pochettino angolo della posta Vegapunk guarda un po' si parla di Vegapunk inizia Roro 94 che dice beh siamo tutti siamo capaci tutti a dire ciao io sono Vegapunk bisogna vedere se è vero e poi perché dice dottore non dottoressa un po' troppi travestiti in One Piece sinceramente sembra Punk Hazard 2 con Bonnie al posto di Loh la ciuma arriva sull'isola divisa il dottor Vegapunk al posto di Cesare sarà un'isola di sole informazioni quindi non penso che ci sarà da fare una guerra o cose simili qui si attenti al discorso del Meppo Serafim probabilmente è la saga in cui sapremo tutto sui frutti del diavolo il pacifista Kuma ha calmato l'idea di tutto di più sulla maia della tipa è scritto Punk 02 questo dettaglio mi fa pensare che sarà numero 2 dell'isola ah in caso di combattimento quindi lei affronta Zoro e non Vegapunk che dovrebbe essere il numero 01 oppure io metto 00 già so che aveva appena visto Bonnie l'utero avrei pensato però anche sta tipa Vegapunk non è male beh ma anche doll io adesso non ne ho parlato nel video commento ma anche doll non è affatto male mi piace molto questa doll poi tutto troppo immediato questo è Yoko che dice salve strike non so te ma c'è qualcosa che non mi torna in questo capitolo sono 1060 capitoli che ci stiamo vabbè non 1060 no saranno 600 no forse 500 ci stiamo cervelando su chi sia Vegapunk e Oda non ci ha mai rivelato nulla adesso la presenza è troppo veloce niente penombra niente suspense tra l'altro prima delle due settimane di sosta mi sembra tutto molto strano quindi la mia domanda è chi è veramente Vegapunk mi piace un sacco che in realtà sia una donna perché dato l'appellativo di dottore ormai davo per scontato che fosse uno ma probabilmente ci sarà stato qualche errore di traduzione dal giapponese tuttavia mi sembra troppo giovane esatto è l'età che soprattutto influenzano certamente non il sesso secondo me potrebbe essere il primo Serafim creato da Vegapunk ma i Serafim però si ispirano sempre ai Lunariani cioè o meglio a King dovrebbe avere le ali il fuoco non lo so basato sulla sua versione d'adolescente ah vabbè quindi Vegapunk ha fatto sesso adolescente ovviamente non credo abbia tutti i poteri dei Serafim normali potrebbe essere stato il loro precursore inoltre essendo avanti nel futuro non mi sorprenderebbe che la vera Vegapunk sia rintanata nel suo laboratorio ovviamente sì mentre la sua coscienza sarà trasferita nelle Serafim ah addirittura che il corpo è tenuto nascosto questa cosa sai mi ricorda moltissimo Sai in Seiya con il vero corpo di Ares che era stato nascosto e l'utilizzava altri corpi anche per reincarnarsi non si reincarnava mai nel suo corpo che è troppo bello e quindi utilizzava altri corpi così parassiti è tutto molto strano dice Sefirotto perché finalmente conosciamo Vegapunk ma la sua caratterizzazione è strana è troppo giovane vabbè ma questo non è questo corso fisico più che caratteriale più o meno io mi aspettavo all'età di Cesar e Giagi pur ammettendo che abbia trovato un modo per invertire il processo di invecchiamento che questa se la sua età è reale ci sono molte altre cose che non tornano ci viene presentato fin da subito e Oda in genere introduce i personaggi cardine prima mettendoli in penombra il personaggio che i Mugiwara incontrano e poi come dicevamo anche ieri lo diceva il buon Galax in live ma l'avranno pensato in tanti manca anche la cover come si chiama l'etichetta di presentazione che secondo me è tanta roba anche quella da ricordare il villain di saga da dare la sua importanza non potrà essere un individuo anonimo presente solamente sull'isola ma dovrà essere inevitabilmente collegato alla macro trama beh se in Tomaro non sarebbe mai in virtù di ciò non penso che l'individuo che abbiamo appena visto sia Vegapanko o meglio non crede che sia il Vegapanko di cui Oda ci ha parlato potrebbe essere tranquillamente la figlia che sta percorrendo le orme del padre eccetera e se c'è una figlia ci dovrebbe essere anche una madre Vegapank è la madre il marito è uno stupidone che sta lì a giocarsi il super enalotto e la figlia è pure una scienziata sarebbe bellissima divertente però vabbè un po' troppo così scontato ma imprevedibile cazzo significa scontato ma imprevedibile cioè scontato vabbè appena ho visto l'aspetto di Vegapanko devo ammettere che ho riso di gusto il mio commento è stato come Oda a stupirci sempre ok però dico scontato perché anche con Yamato ci siamo fatti migliaia di pippe soprattutto mentali ah ok soprattutto dopo averla vista ho capito sull'aspetto di questo figlio di Kaido solo tu indovinasti che era una ragazza ma dicendolo molto ironicamente ecco ogni tanto azzecco qualche cazzata ecco la storia si ripete con Vegapanko e per questo dico scontato altrettanto prevedibile però che non sia il suo vero corpo quindi in realtà potrebbe essere un vecchio decrepito ma vedete che alla fine giriamo sempre sulle stesse idee quanto invidio la ciuma per aver avuto Bonnie mezzanuta sulla nave nella classifica mondiale dei personaggi che fanno ogni anno me lo aspetto questa volta nella top 10 allora Jolly Bonnie come dicevo ieri rappresenta un po' il sogno nascosto di molti uomini una donna rosa che mangia con queste gambe aperte tutta la bocca sporca non lo so perché gli uomini hanno un fascino per queste donne così la donna che dice ma io sto sempre sull'io sul divano rutto mi scaccolo rutto libero eccetera e l'uomo che dice ok questi sono i tuoi pregi i difetti quali sono e Jolly Bonnie rappresenta un po' questo non so non so cosa c'è dietro forse quell'istinto animalesco forse perché possedere una donna del genere è come sentirsi Tarzana nella giungla capito non lo so che tipo di immagine c'è vai lì con la liana non lo so cosa c'è questo dovesse chiederlo ai sessuologi non a me però è interessante anche questo e Jolly Bonnie è così ci piace anche per questo poi Rocky Joel caro Strike sinceramente non penso che quella verissima ragazza sia il vero Vegapunk beh anche perché ormai saresti l'unico la domanda che ti pongo è un'altra secondo te Vegapunk sarà un alleato di Mugi o un nemico bravo anche questo è interessante naturalmente tutti pensiamo che Vegapunk in fondo è un bravo guaglione il problema è che se diventa l'ennesimo alleato di Rufy la Marina e il governo mondiale rischiano di perdere di avere contro i Seraphim i pacifisti per cui è giusto Vegapunk credo che resterà sempre neutrale non vedo l'ora di vedere le sorprese che ci riserveranno nei prossimi tre anni soprattutto di scoprire qualcosa in più sul secondo personaggio più immersioso del manga cioè il dottor Vegapunk spero che Sentomaru sia sull'isola bravo anche tu hai ripensato a Sentomaru e vedi che anche tu condividi che non posso essere questa ragazza certamente non perché una ragazza non possa essere geniale ma per il fatto che stona con tante cose dette precedentemente al tempo stesso interessante poi capire in realtà ma a prescindere chi sia sto Vegapunk ma cosa pensa qual è la sua immagine la sua idea politica quello interessante Vegapunk ha provato a trasferirsi da un corpo all'altro allora come Negano non so dirti però sul discorso del trasferimento del corpo credo che ci può stare per un semplice motivo Jolly Bonnie è andata su quest'isola per recuperare la mente diciamo così di Kuma cosa significa questo che o Jolly Bonnie farà un buco nell'acqua e quindi Vegapunk dirà no e come fai ormai è inutile però è strano una trama del genere questa va fino a lì per sentirsi dire che la cosa è impossibile oppure effettivamente è possibile almeno nel mondo di One Piece mettere tutta la coscienza anima cervello chiamatelo come volete di qualcuno in un chip ok si può fare questo è il chip e quindi allora Vegapunk potrebbe farlo cioè lui ha messo tutta la sua coscienza in un chip e poi si muove e anche in questo caso andiamo a citare Sasori di Naruto che poteva muoversi da una marionetta all'altra visto che il suo intero corpo l'aveva raggruppato in una sorta di cilindro agglomerato di di chakra era un po' una cazzata perché tutti capivano che ero quello il punto debole però vabbè almeno era divertente la cosa vediamo l'ultima che ci dice il buon clone pazzurdo grandi nomi ragazzi che vi trovate allora lui ci dice che ciao Strike premetto di non aver ancora recuperato la live ok abbiamo visto come Vegapunk sia in realtà una ragazza molto giovane e ciò ha subito fatto credere ai fan che potesse trattarsi di un clone vista la maestia dello scienziato ma voglio proporre qualcosa di diverso abbiamo visto in questo capitolo come Bonnie sia in affari con Vegapunk affari vabbè e lei possiede un frutto legato all'età biologica anche se non abbiamo ancora capito bene come funziona se Vegapunk fosse una donna anziana ringiovanita da Bonnie ok dai ci possa tipo un compromesso per riportare Kuma indietro o perché magari Bonnie è proprio la figlia di Vegapunk vabbè però sembra strana questa così vabbè le cose a caso ci stanno sempre però giustificare la scena di Akaino si la conosciamo tutti un'altra possibilità è che Bonnie serve per aiutare i bimbi di Pancasardo sempre con il compromesso di Kuma anche se poi sarebbe semplicemente fine a se stesso vabbè se Bonnie avesse ringiovanito effettivamente Vegapunk potrebbe partire un piccolo spiegone sui frutti del diavolo dove finalmente potremmo sapere di più quindi Vegapunk ha dato questo frutto a sua figlia a Bonnie affinché sua figlia a Bonnie lo ringiovanisse è un po' come Doflamingo che è del frutto Ope Ope Allo affinché Lo possa utilizzarlo per fargli la reincarnazione come dire l'eterna giovinezza eh vabbè più o meno abbiamo visto che King era un soggetto di esperimenti da parte di Vegapunk quindi la buttò lì potrebbe essere che attualmente Urouge sia sotto esperimento per qualcosa perché proprio Urouge sarebbe un buon pretesto per introduzzare entrambe le Super 9 beh Urouge io nella mia testa me lo sono messo su un altro filone Urouge viene da da Skypiea aveva le ali le cose da bambino le cose tipiche le antenne tipiche di Angel Island potrebbe rientrare nel filone Luna Lunariani Enel beh chiudo tutto torniamo a noi PPS sto scrivendo questo messaggio dopo aver pubblicato e prima di andare a dormire perché ho avuto un altro flash vai a dormire caro perché ti vedo stanco dando un attimo per buono che Vegapunk sia effettivamente una donna ringiovanita ho trovato un metodo per giustificare il fatto di copie e altri che sostenevano fossero un uomo Vegapunk in un mondo maschilista ha finto di essere un uomo magari usando un robotto uomo durante gli eventi politici quindi il vero Vegapunk è questa ragazza che è stata ringiovanita da 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 Jolie Bonny cioè un film non è più una teoria un film quindi Vegapunk è una ragazza che vista l'età deve essere ovviamente stata ringiovanita da Jolie Bonny che è sua figlia però al tempo stesso lui ha fatto finta che la ragazza sia un cyborg perché il mondo è maschilista e lui si è messo va a dormire perché veramente però comunque sei geniale posso dire che veramente sei oppure finisco veramente lo giuro veramente vai a dormire magari l'isola viene definita 500 anni nel futuro perché cose come il sesso di una persona lì non sarebbe una cosa importante quindi Vegapunk magari riesce proprio a cambiare sesso in qualche modo con la genetica ma secondo me fortunatamente il discorso sessista è più che altro nel nostro mondo non in quello di One Piece che poi Oda disegni tutte le donne belle ieri in là avevo detto ok vuoi fare una cosa femminista fammi Vegapunk scienziata però fammela brutta perché non è che Madame Curie fosse un gran pezzo di oppure Harriet Leavitt chi è? è la scienziata che studiando le stelle ci ha consigliato di capire la distanza delle stelle sapete quando dice quella stella dista 100 anni luce è grazie a questa donna Harriet Leavitt per cui per dire allora disegniamela come una persona anziana e Harriet Leavitt non era un gran pezzo cioè per dire quindi se vuoi fare una cosa femminista ma è un problema del nostro mondo non del mondo di One Piece nel mondo di One Piece abbiamo Hina che è una vice ammiraglio e aveva come sottoposti personaggi abbastanza stupidi che l'adoravano abbiamo Boa Hancock che è fortissima ha un frutto gigantesco per andarla a catturare hanno utilizzato persino i Serafim e Copi e non ce la stavano facendo abbiamo un'imperatrice pirata che è una donna quindi secondo me nel mondo di One Piece non c'è bisogno di fingersi maschio per essere rispettato fortunatamente abbiamo questo ragazzi io come finale posso soltanto dirvi che ho intenzione di ritornare al gaming su Twitch ultimamente sto giocando molto a Rocket League ma è divertente perché è l'unico gioco che mi consente anche di fare due chiacchiere con voi così perdono un po' di tempo la sera e niente perché ho bisogno anche un po' di distrarmi visto che il lavoro ultimamente è abbastanza pesantuccio e quindi niente io vi saluto qui madonna 50 minuti pure oggi è colpa di questi capitoloni che volete da me noi ci vediamo prossimamente mi raccomando fate i bravi ci sarà un po' di pausa quindi probabilmente recupereremo con una live venerdì e per il resto vi voglio tanto bene fate i bravi e buon 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 weekend a todos bye